Ho fatto tutto? Ok, guarda allora. E lo so, ma tu devi anche cantire me, capisci? Ho fatto un... Dai, vieni, parlo. Dunque, come manicure, normale. Normale. Come scopeta, super. Sai, in un primo momento lei voleva fare la ritrosola, non gesteva, faceva tutta quella del convento, l'arrossamento, sai, finché io me lo sono in chiappeteta, poi tu mi conosci, ma è vero quale persona? Sì, ma me ne ho capito. Sì. Ma dopo la cosa... In chiappeteta? Sì, ma quanto? Oh, lei lì per lì ha chiesto quindi... Servo qualcosa. Quindi un cinero. Dici volte. Normale. E una minestra anche, perché ha lavorato lui. Insomma, 15.000 franc, te capisci? 15.000. Però valeva la pena, porca puttana. C'aveva due tettone, guarda, che sembravano due moschettoli, due chiappole che quando, insomma, una donnola, ecco. Sì, una puzzola. No, no, non si sentiva niente, profumato l'ambiente da morire. Ma se io ho capito, si fa per dire, no? Mentre me la inghiapetevo... Vittorio. Vittorio. Dopo l'inghiapettamento io osservavo tutto, se no che carabiniere sono, me la inghiapetevo e guardavo l'ambiente e l'ho fatta candere. Cos'è candere? La mignotte. Dunque questa, in poche parole, si fa 15, 20, 30, 40 servizi al giorno. Cosa mi dici? Eh, fa un po' il conto. 15.000 franc. Sono 6 milioni al mese. Anche 7, anche 8. 8 milioni. Guadagna più di un ministro? Non lo afferrevo. Guadagna più di un ministro? Ah, avevo capito che anche i ministri si inghiapettevano. Per piacere, basta, eh? Eh. Va bene? Va bene, andiamo. Ho bisogno dei miei coglioni, tutto da solo devo fare.